Il maltempo ancora una volta si è abbattuto con violenza su Civitavecchia. Ieri i Vigili del Fuoco sono stati in campo per tutto il giorno per interventi legati al forte vento che sta imperversando ancora oggi sul litorale e che ieri ha flagellato la nostra città. In particolare gli uomini della caserma Bonifazi hanno dovuto badare a coperture, pali, grondaglie e rami pericolanti e rimuovere un albero che era caduto sulla strada di Torre Valdalica Nord e che bloccava il transito. In via Strambi è stata messa in sicurezza una tettoia le cui porzioni pericolanti minacciavano di cadere sul centro diagnostico Bonarroti. In via Flavioni invece i pompieri hanno soccorso una donna che era rimasta accidentalmente chiusa fuori dal balcone della propria abitazione. Ma il vero disastro si è registrato alla marina colpita in pieno dalla mareggiata che il forte vento ha aizzato. La protezione civile e i tecnici del comune si sono recati sul posto nel pomeriggio di ieri per transennare tutta la zona e non permettere ai cittadini di avvicinarsi al mare. Piazza della Vita sarà completamente invasata all'acqua con le onde altissime che hanno cancellato la spiaggia e portato l'acqua fino al parco giochi per bambini dedicato a Flavio Gagliardini. Una mareggiata in piena regola, forse la più pesante che si è registrata negli ultimi anni, come testimoniano le immagini del giorno successivo. E che riporta l'attenzione sulla necessità e sull'urgenza di costruire una protezione per la marina la barriera soffolta della quale da tanto tempo si parla ma che ancora non c'è. Visti i danni che si sono registrati, il sindaco Ernesto Redesco ha annunciato di voler chiedere lo stato di calamità naturale. Tanti disagi che si sono registrati anche in porto, dove il terminal container ha visto diversi cassoni accatastati in banchina spostati o addirittura ribaltati. A caso del forte vento, inoltre, con raffiche anche fino ai 100 km orari, è stato richiesto l'intervento dei rimorchiatori per spingere in banchina una nave da crociera ormeggiata all'antemurale.